Salve a tutti, la tappa di oggi, la partenza del Giro d'Italia, Genga nel 2021 con la ricorrenza del cinquantesimo dell'apertura della scoperta delle grotte di Frasassi rappresenta un momento fondamentale di ribalta a livello sia nazionale che internazionale, una celebrazione di altissimo livello che sicuramente darà ancora più il lustro a questa nostra località che vuole essere sempre più destinazione centrale del turismo all'entroterra marchigiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.